I primi disagi sono iniziati giovedì pagamenti con il Bancomat interrotti o impossibili sui circuiti Nexi e Bancomat a causa di un guasto alla rete del provider Worldline in Svizzera. Un vero e proprio caos per i pubblici esercizi di Padova e provincia. Dopo anni e anni che lo Stato ci chiede di abituare i clienti alla transazione digitale, ai pagamenti tramite Bancomat e si istruisce l'anziano che deve pagare anche la bottiglietta di acqua col Bancomat, ci troviamo da giovedì in situazioni precarie in cui nei foglietti di carta, nei post-it, ci scriviamo tutto quello che il cliente poverino non aveva in portafoglie e quindi ci dovrà portare. Io mi auguro che per il weekend questo disservizio venga risolto perché sennò veramente è un disastro. A Padova Centro nei ristoranti 9 clienti su 10 pagano con il Bancomat, nei bar si arriva a punte dell'80% con molti che pagano anche il singolo caffè. Da giovedì, quando questo servizio è andato fuori uso, l'esercente si è ritrovato ancora una volta a fare le veci degli istituti bancari, fare credito ai clienti che venivano a consumare. Non è possibile, siamo veramente sconfortati. Nessuna previsione di soluzione certa del guasto per il fine settimana, da qui l'invito ad avere contanti rivolto da app ai suoi clienti.